Buongiorno a tutti utenti di The Green e benvenuti nel mio Bed & Breakfast B&B Linea Verde. Vi ho organizzato un tour dimostrativo per vedere che cosa vi aspetta se vorrete soggiornare qui da me. Ho organizzato, quello che organizzo tutti i giorni per i miei ospiti, un'abbondante colazione con prodotti freschi, tutti genuini e fatti in casa. Qui come potete vedere c'è il mio regno, ogni mattina scenderò a prepararvi io personalmente le colazioni. Il mio B&B è dotato di due stanze, date tutte e due un nome di una pianta verde, aloe e menta. Prego che vi faccia vedere la stanza anoe. La stanza anoe è una stanza doppia con delle poltrone disegnate dall'architetto Gaiolenti. Ogni stanza è dotata di un set di cortesia, come delle capsule nell'anno espresso, che gli ospiti possono utilizzare tranquillamente nella sala comune. Ogni stanza possiede il proprio bagno privato e perché cercare di limitare gli sprechi abbiamo integrato nel WC anche un sistema giapponese per la possibilità della pulizia del corpo. L'altra stanza che vi farò vedere è la stanza menta. È una stanza che può essere sfruttata sia come una stanza matrimoniale o la possibilità di dividere i letti in due letti singoli, proprio per la possibilità di utilizzarla in maniera divisa. È leggermente più piccola della stanza anoe, ma ha un vantaggio, ha un balcone sul quale io coltivo personalmente delle bellissime piante di menta. Qui abbiamo il proprio bagno privato della camera menta. Signori, io spero che vi sia piaciuto questo piccolo giro introduttivo e se vorrete soggiornare presso il mio B&B sarò felice di accogliervi e di farvi vivere un'esperienza indimenticabile.